RICAVI per 440 milioni di euro, 33 milioni di utile lordo, con un incremento del 19%, 18 milioni di utile netto, con aumento del 25%, 8 milioni di utile di esercizio. Sono i risultati di Estra nel primo semestre 2015. Marketing Ideas è il concorso in marketing strategico per vendita del gas, riservato agli studenti di economia dell'Università di Firenze, promosso da Estra e dall'Ateneo Fiorentino. Il progetto di riqualificazione energetica di San Nicolò, realizzato a Prato da Estra Clima, protagonista nel settembre scorso al Forum milanese sul telecontrollo e reti di pubblica utilità. Energia alle tue passioni, il nuovo concorso Estra che premia una passione per la quale fare qualsiasi cosa. Per partecipare basta raccontarla o votare la preferita, in palio anche voucher in denaro per alimentare la propria passione.